frammentando armonia cosmica franco lanari possiamo supporre quindi che nei mondi dell'etere cosmico e dell'astrale le entità esistano oggettivamente e operino in forma vibratoria in un mondo a dimensionale a spaziale onnipresente secondo le leggi eterne dell'assoluto che si è manifestato oggettivamente in forma vibratoria frammentando così la sua divina perfezione nel relativo